Stadio Achille Baldinelli e diamo tutte le coordinate, sede della Junior Tiferno, presentazione ufficiale con la conferenza stampa del torneo di fine settimana, il torneo Sporting Club, Giacomo Pala, Presidente, il torneo dei grandi numeri. Sì, Gabriele, sabato, domenica e lunedì Achille Baldinelli si vestirà a festa, ospiteremo la quinta edizione dello Sporting Club, siamo onorati e orgogliosi di essere arrivata la quinta edizione, stiamo migliorando anno dopo anno e non a caso quest'anno purtroppo abbiamo dovuto dire di no a tantissime società. Parliamo un po' di numeri, in questi tre giorni giocheranno circa 1200 bambini, 20 comuni coinvolti in tutto il centro Italia, quindi Lazio, Umbre, Toscana, Marche ed Emilia Romagna, siamo la bellezza più o meno di 250 partite in tre giorni, quindi come diceva prima Luca facendo un calcolo sono quasi 100 giornaliere, partiamo la mattina alle 9 e arriviamo la sera alle 9 quasi. Quest'anno grazie anche all'amministrazione comunale che ci ha permesso con l'installazione dell'impianto illuminante di poter arrivare un po' più tardi per poter svolgere le finali. Tutti a mangiare insieme dando proseguio a quella che è stata la bella iniziativa degli anni passati, no? Sì, questo è vero, noi a parte oggi che siamo entrati in conferenza stampa e che poi alla fine conferenza ci fa sempre piacere coinvolgere tutti coloro che hanno preso parte a conferenza al conviviale, come si suol dire perché per noi è importante. Anche durante il torneo grazie all'istituto Ugo Patrizzi, quindi Cavallotti e Valdeo. È giusto, no? È la correttezza. Anche lì è uno sforzo enorme perché metteremo a tavola circa 1500 persone in tre giorni e credetemi con il solo aiuto volontariato, quindi nostro, dirigenziale, delle proprie famiglie, delle nostre famiglie, tecnici, allenatori, insomma tutti coloro che gravitano intorno alla società saranno lì in panuccia, come avete visto il nostro amico Mario Basteroni. Questa sera, insomma a parte gli scherzi, ci rimbocchiamo tutti le maniche ma per un solo scopo, per la passione che ci lega a tutti noi amici e soprattutto verso la società Junior Tiferno. Tra l'altro un miso ufficiale della Junior Tiferno questa sera perché questa tre giorni tra l'altro sarà sicuramente un'altra bella cartolina di Città di Castello, dell'Alta Valle del Tevere in tutta Italia. Sì, quello è vero perché comunque quando si parla di, ma poi alla fine di 4000-5000 persone che graviteranno all'Achille Baldinelli in tre giorni e quindi sono numeri importanti, numeri diciamo anche per la città, per l'amministrazione comunale, persone che poi graviteranno all'interno della città nei tempi morti del torneo. E non a caso abbiamo anche contemporaneamente l'Holly Wine che comunque sia una manifestazione a livello diciamo comunale importante perché porta gente a Città di Castello e noi portiamo gente a Città di Castello. Quindi potrebbe essere un bel connubio per i genitori visitare anche il centro della città. Ultima cosa velocissima, voi ci tenete molto, il sociale è naturalmente parte dell'incasso del torneo per un'opera benefica molto importante, anche grazie a tanti altri sponsor. Certo, per noi è importante da anni che collaboriamo con la Parent Project, la ONLUS che studia praticamente la distrofia muscolare, cioè la guarigione per la distrofia muscolare. E fra l'altro il nostro, il presidente della Parent Project è il nostro grande amico Renato Pescari, anche nostro grande sponsor. Quindi che facciamo? Noi in queste tre giornate l'ingresso, cioè il biglietto dell'ingresso viene diciamo devoluto all'associazione. Ci sembra doveroso perché, come abbiamo detto prima, verranno 1200 bambini a giocare a pallone qui all'Achille Baldinelli, però come loro ci sono 1200 bambini a casa che purtroppo non possono farlo con le proprie gambe. Quindi credo che sia doveroso per le famiglie sposare questa situazione e dire insomma, ecco, sì, entriamo perché facciamo del bene a chi, a differenza dei nostri figli, sta a casa a guardare. Buon lavoro, grazie.